Un monitor digitale capace di trasformarsi in pochi secondi in una lavagna touch interattiva con condivisione di contenuti multimediali tramite il QR code. Tra le sue molteplici funzionalità ha anche la possibilità di convertire i appunti scritti manualmente in caratteri digitali e di realizzare contenuti tridimensionali in alta risoluzione da poter condividere in tempo reale tramite una connessione wireless. Sono queste alcune delle funzionalità che le tre nuove aule multimediali inaugurate all'Università degli Studi di Palermo all'interno del Dipartimento di Architettura del Campus di Via delle Scienze offrono a studenti e docenti. Tre nuovi spazi allestiti con tecnologie di ultima generazione capaci di integrare gli ambienti fisici con quelli digitali per trasformare la didattica tradizionale in un'esperienza nella quale il trasferimento di conoscenza si muove in uno spazio aperto e potenzialmente illimitato. Durante la lezione dimostrativa della professoressa Grazia Napoli, assieme agli studenti dell'insegnamento di Economia dell'Ambiente, del corso di studio di Architettura e ai professori Manfredi Leone e Calogero Vinci, delegati alla gestione e manutenzione degli spazi, sono state illustrate alcune delle possibilità di utilizzo di questa tecnologia all'avanguardia che punta a supportare lo sviluppo di percorsi di apprendimento immersivi, coinvolgenti e interattivi.